Ok, serpenti, tirate fuori i sonagli! Pronti? Partenza! Via! Caspita, Allen ha messo il turbo! Ma le mastica quelle torte! Su, all regge il ritmo! E Prince sta andando a passo di lumaca! Ehi, Prince, cerca di usare la bocca! Woohoo! Puoi farcela, Diana! Ma questo? Questo è il sapore della vittoria! Sì! Sai, non so, sembra un po' facilino. Credimi, sono io che lo faccio sembrare facile. No, sono sicura che è facile. Forse sembra facile, ma ti assicuro che richiede mesi di allenamento! Perché non fai un gioco vero con veri premi? Che ci vuole? Non dargli ascolto, quel gioco è... Truccato! Ma è come vuoi, divertiti a perdere, cara! Devo solo lanciare la palla nel canestro? Eh, sì! Ah! Facile! Ti faccio vedere! Un Mauro! Un plattolo! Un plattolo! Un plattolo! Un plattolo! Dori Swole sta rallentando! Sono contenta che tu sia qui! Allora sei pronta a farti spettinare? Ah, deve essere un altro modo di dire degli umani? In questo caso, sì! Puoi spettinarmi? Sì! Che fico! Cara, si direbbe un vero covo di demoni? È così? Allora queste persone sono possedute da Ade! Dobbiamo agire! Stai annuendo? Allora dobbiamo mimetizzarci tra i demoni! Vai! Non muovere di pena! Puoi farcela, dai! Oh, Allen abbandona la postazione e viene squalificato! Diana Prince va quattaquatta a prendere il suo posto! Eh, Prince, ehi! E là, Prince! Diana, basta! È finita! E con questo è tutto dallo Sweet Justice! Un saluto da Lois Lane! Spero che questa gara vi sia piaciuta tanto! 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 Spero che questa gara vi sia piaciuta tanto!